Sabato 3 giugno 2017 va in scena al Millennium Stadium di Cardiff la finale di Champions League 2016-2017 Le pretendenti al titolo sono Juventus Football Club squadra che domina ormai da sei anni a questa parte in contrastata in Serie A e il Real Madrid probabilmente il club più forte al mondo guidato ovviamente dal fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo Per la Juventus la vittoria in finale vorrebbe dire terza Champions League della propria storia mentre per il Real Madrid sarebbe la dodicesima vittoria di sempre Un match tesissimo quello che va in scena a Cardiff passa subito in vantaggio il Real Madrid con Cristiano Ronaldo ma pochi minuti dopo Mario Manzokic pareggia subito i conti con una vera e propria magia Uno a uno ma è nel secondo tempo nella ripresa che viene fuori tutta la potenza tutta la grinta del Real e i bianconeri devono arrendersi Prima Casemiro poi ancora Ronaldo e infine Asensio mettono la parola fine alla finale e fanno portare a casa al Real Madrid la dodicesima Champions League della propria storia Quindi dopo due sconfitte consecutive noi abbiamo il dovere di far conquistare una Champions League alla Juve E bello a tutti ragazzi ben arrivati in questo nuovo video io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi signori finalmente è arrivato il giorno dell'inizio della nostra nuova carriera allenatore con la Juve Raga voglio fare per la prima volta sul canale una carriera realistica non che le altre magari non lo fossero ma questa raga la voglio fare vera 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 Avete visto mi sono impegnato ragazzi abbastanza per fare la parte iniziale di questo video E voglio appunto ragazzi fare una carriera il più realistica possibile il calciomercato sarà limitato andremo soltanto ad acquistare giocatori che sono realmente seguiti dalla Juve Non acquisti a caso in qua in là le scezioni saranno limitate faremo con i giocatori che già abbiamo e soprattutto l'obiettivo è vincere la Champions Quindi raga subito andiamo avanti e prendiamoci la Juve Ed eccoci dunque qua ragazzi allora subito andiamo agli inviti per il torneo precampionato E vabbè allora in teoria volendo fare la carriera realistica avremmo dovuto scegliere la tournée americana Non c'è quindi sicuramente non andiamo in Corea perché non ha senso quindi o Brasile o Argentina a sto punto ce ne andiamo belli belli in Brasile vai Facciamo tournée brasiliana invece che americana Poi prima di procedere ragazzi allora bisogna ragionare anche subito su un aspetto Allora io la finestra di mercato estiva l'ho lasciata attiva non l'ho disattivata Però quello sarete voi a decidere se proseguire con cioè se fare alcuni acquisti e alcune cessioni Oppure se non fare niente fare finta che gli acquisti che in teoria la Juventus ha già fatto Ossia rivediamo ossia la cessione di Bonucci al Milan, l'arrivo di Matuidi al Paris Saint Germain La cessione di Daniel Alves al PSG, l'arrivo di Bernardeschi, di Cesni, la cessione ufficiale di Zazza, di Neto L'arrivo di De Sciglio siano i movimenti di mercato fatti per questa prima parte di stagione E quindi andare avanti con ciò che abbiamo cioè con i giocatori che abbiamo fino a gennaio Oppure se fare magari 1-2 acquisti massimo e poi cioè da utilizzare insomma subito nell'immediato E poi chiaramente correre se ci fosse bisogno ai rifari nel mercato invernale E cercano ragazzi sempre di fare dei brevi montaggi di qualche clip per rendere ogni episodio più carino, più realistico Cercando di prendere spunto anche dalle reali partite che la Juve ha giocato in stagione contro i vari club E quindi raga subito andiamo ad analizzare la squadra Trofeo a inviti Las Americas, ok perfetto ci siamo Vendita maledita, ora ci guardiamo subito tutti gli obiettivi Il nostro spettacolo di visione Ok, vediamo che vogliono Ah vabbè sono gli obiettivi, no no adesso andiamo subito a vederli Primo risultato dell'osservatore, vabbè non che ci interessi tantissimo Ed ecco qua gli osservatori Ma noi le istruzioni come sempre le togliamo perché tanto non ci servono E guardiamoci gli obiettivi che il club vuole che noi si svolga Allora vediamo subito, crescita giovani fa giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva Ad almeno un giocatore, il barra giocatori del vivaio Quindi per la prossima stagione raga va bene, con calma ce la possiamo fare Poi fama del brand, guadagna 200 milioni dalla vendita delle magliette in una stagione Sono tantissimi soldi, veramente tantissimi Però ce la possiamo fare E poi guadagna anche 20 milioni dai diritti tv che sono pochi raga Essenzialmente sono pochi Poi abbiamo finanze, nessun obiettivo Successo in patria, vince la Coppa Italia, il campionato Successo continentale, vince la Champions League raga Obiettivi massimi Bisogna vincere tutto l'obiettivo della Juve per quest'anno E noi ci proveremo Assolutamente Però adesso bisogna guardare la squadra Con la nostra Juventus andremo ad utilizzare per la prima volta ragazzi Come formazione, come modulo ufficiale Insomma per la formazione titolare Un 3-4-1-2 Con in porto ovviamente Buffon in difesa Barzagli, Benassiacchi e Lini A centro campo quadrado Matuidi, Pjanic, Alexandro Trequartista Di Bala davanti Mandzukic e Higuain In più abbiamo in panchina i vari Cesni, Ovedes, Lichsteiner, Marchisio, Chedira Benedeschi, Dagalashkosta E poi come riserve Pinzoglio, Rugani, Asamoa, Decilio, Sturaro, Betancur Piazza e Tiam Questi raga sono i nostri giocatori Secondo me possiamo fare delle belle cose già con questi Quindi essenzialmente raga Non c'è bisogno di ricorrere per forza alla sessione di mercato estiva Però ve l'ho detto Tutto al più 1-2 acquisti e solo giocatori che la Juve segue realmente Quindi mi raccomando Consigliatemi giocatori magari se vi dovesse interessare acquistarne qualcuno Però devono essere solo giocatori che la Juventus segue realmente E le cessioni ragazzi dovranno essere reali Per esempio, faccio un esempio Dovesse contattarci l'Inter per Dybala Rifiuteremo ragazzi perché nella realtà Dybala non è un obiettivo dell'Inter O meglio, potenzialmente sì Però chiaramente non lo compreranno mai Mettiamola così E quindi cercheremo ragazzi proprio di rendere questa carriera il più realistico possibile Abbiamo fatto anche gli allenamenti che sono andati anche molto bene Perché a parte Bernardeschi Che ha ottenuto una B Tutto il resto hanno tutta ragazzi tutte A Quindi meglio di così non si poteva andare E detto ciò Il video raga lo chiuderei già qua Perché oggi questo voleva semplicemente essere un episodio di presentazione Del progetto E parliamo però anche di un altro aspetto molto importante Ossia l'organizzazione per quanto riguarda appunto la carriera sul canale Allora io raga questa carriera la farei uscire in maniera settimanale Perché c'è un lavoro di editing maggiore dietro Quindi richiede più tempo per tutte le cose Poi avete visto raga Mi sono divertito a fare tutte quelle clip da mettere prima del video E mi hanno richiesto diverso tempo Quindi mi serve appunto una settimana Per questa volta il video uscirà di sabato Sì è di lunedì però mi piacerebbe farlo uscire il sabato Perché secondo me ha più senso Però comunque fatemi sapere anche voi Se ci dovesse essere un giorno Che più vi potrebbe far piacere Io al momento direi il sabato E... Guardiamoci anche il calendario Così ragazzi intanto ci strutturiamo anche per i prossimi episodi Allora io direi di far così Per il prossimo episodio Arriviamo fino a fine mese Fino al 31 di luglio E ci giochiamo tutte le amichevoli estive Quelle che saranno Se dovessimo uscire alla fase gironi Giocheremo soltanto queste tre Se no ce le giocheremo tutte E... Il mercato raga Anzi in generale Le episodi saranno strutturate in maniera differente Saranno appunto molto più editati Quindi non verranno mega episodi di calcio mercato Da 55 minuti Perché ci sono anche le partite raga Assolutamente no Il tutto sarà molto più editato Molto più veloce Quindi appunto raga Mi serve proprio una settimana Per portarvi questo genere di video Perché per me è appunto una specie di esperimento Voglio vedere un po' Come si andrà ad evolvere Quindi ci facciamo Diciamo il periodo del calcio mercato In due episodi Uno per mese in sostanza Detto anche questo Ci siamo organizzati anche dal punto di vista Del... Diciamo... Del calendario Per quanto riguarda il canale Vi lascerò anche ovviamente Un sondaggio Per andare a votare L'opzione di fare o non fare Il calcio mercato raga Perché appunto Io stavo ragionando adesso Nell'ipotesi che Si facciano alcuni acquisti Ma appunto come abbiamo già detto Non è affatto stabilita questa cosa Sarete voi a votare con il sondaggio Detto ciò Chiudiamo qua il video raga per oggi Spero che questo progetto Che questa avventura Che andremo ad intraprendere con la Juventus Possa farvi piacere Alla fine Ve l'avevo promesso raga Che avremmo iniziato una carriera con la Juve E finalmente ci siamo arrivati Chiaramente c'è anche Chi di voi Magari Tifa Non lo so Inter Milan Roma Lazio Napoli O qualsiasi altra squadra E la Juve può Può anche non piacergli Raga Io tipo Inter Per esempio Però Mi fa piacere Portarvi la carriera con la Juve Semplicemente Perché So Che da voi è molto richiesta E quindi Ci tengo a rispettare Le mie promesse E quindi Raga Senza problemi Ci facciamo questa nuova super avventura con la Juve Chiudiamo qua il video Spero vi sia piaciuto Vi invito come sempre A lasciare tanti bei pollicioni in su Ad iscrivervi al canale A condividere il video Con tutto il bel commento E direi che ci possiamo Vedere domani Con un nuovo video Buona